c'è anche giorgia meloni nel libro di bruno vespa perché mussolini rovinò l'italia e come draghi la sta risanando la leader di fratelli d'italia affronta vari temi e scenari politici del centro-destra anche del suo rapporto con matteo salvini abbiamo due caratteri molto diversi io diretta al limite dello sgarbo lui più riflessivo abbiamo avuto a volte una difficoltà obiettiva a capirci dice riguardo il leader della lega nel libro in uscita il 4 novembre per mondadori rai libri la meloni risponde a vespa più che le fa notare che non con salvini si sono parlati per settimane punto è accaduto ma molta rivalità è stata costruita dagli altri quando noi eravamo un piccolo partito arrivava gente che mi diceva salvini ti distruggerà adesso lui dicono il contrario ma sul territorio le coalizioni sono sempre state unite e anche noi due ci siamo ritrovati bene è un rapporto dipinto peggio di com'è fino a metà luglio le cose andavano abbastanza bene poi fratelli d'italia voleva uno spazio che non gli è stato dato nel consiglio d'amministrazione rai e questa vicenda ha avvelenato i pozzi ma dopo il trattamento mediatico che abbiamo subito per le vicende morisi e fidanza abbiamo capito che se procediamo divisi magari prendendoci a sberle non andiamo da nessuna parte se siamo uniti è tutto un altro paio di maniche rivela la leader fd se vinceremo le elezioni per il consiglio dei ministri ho in mente nomi di persone esterne a fratelli d'italia ma con noi compatibili persone della società civile con cui intrattengo rapporti che hanno grande competenza il coraggio che serve dice poi nell'intervista alla domanda di vespa se ci sarà mai un governo meloni il presidente di fratelli d'italia risponde questo va chiesto agli italiani in ogni caso non dovremo fermarci al mio nome